Salute professore, eh beh, a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone, eh già, io per esempio professore a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si ha fatto dopo franzi, sapete, quel po' che ti stai dipendendo, scusate, eh, e me la devo preparare io stesso con le mie mani, eh, sono gelosissimo, eccolo, eh, mia moglie, no, 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 mia moglie non collabora, eh, no, eh, sapete, è molto più giovane di me, e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista sono la poesia della vita, eh, oltre a farmi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito, bravo, bravo, eh, e poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zero, lo stesso amore, eh, capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente, ma proprio, eh, lo faccio con tutte le regole, eh, per esempio, vedete, proprio su, eh, sul becco, eh, lo vedete il becco? Eh, questo, proprio su, eh, no, qua, voi guardate a me, il becco della caffettiera, eh, no, per carità, io non mi arrabbio, eh, permetto di dire, sono di spirito anch'io, avete fatto uno scherzo, no, dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo copitello di carta, eh, quello mi sembra niente questo copitello, eh, ma pure c'ha la sua funzione, e già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè, come pure, proprio su, eh, ricordate, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, no, dall'altra, dove si versa l'acqua? Eh, voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, eh, dove si versa l'acqua? Eh, sul fondo, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata, eh, è un piccolo segreto, eh, già perché l'acqua, è vero, in pieno bollore, già si aromatizza per conto suo, nel momento della colata, eh, e allora il caffè viene più profumato, viene, si viene meglio, eh, è una grande soddisfazione, sì, eh, ed evito pure di prendermi i colori, perché se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce le pizze coppie, le pizze sotte, se mischia, diciamo, posa e il caffè, siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno, mi convinco che è buono lo stesso, ma lo bevo, eh, ti saluto, eh, beh, è un altro poco. Lo so, voi pure vi divertite qualche volta, e come no, perché io vi vedo fuori dal balcone a fare la stessa funzione, la mattina presto, sì, vi vedo col giornale, sì, sì, e i muri, sì, sì, però con le stesse abitudini, anzi, siccome, come vi dicevo, è vero, mia moglie non collabora, me lo tosto da me, sì, 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 eh, beh, e quella poi è la cosa più difficile, eh, 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 indovinare il punto giusto di cottura, o colore, il colore, eh, a manto di scusate, professore, eh, eh, questo non è caffè, questo è cioccolato, eh, eh, vedete quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo, una mezza tazzina di caffè, prendete fuori dal balcone così, con un po' d'aria fresca, eh, tranquillamente, con un simpatico dirimpettaio, uno scambio e due chiacchiere, no, voi siete molto simpatici, vado modesto, sì, e parlo sempre volentieri con voi, siete intelligenti. Mezza tazzina me la conservo, fra una sigaretta e l'altra, il caffè si deve prendere con tranquillità, eh, scusate, non ho capito, adesso, vieni, 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 niente, niente, professore, stai a far carità, sciocchezze, sciocchezze, no, 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 e se no non ci sarei venuta ad abitare, per carità, tutte sciocchezze, non ho mai creduto a questo genere, eh? Sì. Ah, non, giusto. professore, per favore, fatemi parlare per favore non metto in dubbio quello che voi mi dite ma in questa casa regna la vera tranquillità per carità, tutto quello che voi vedete sopra il cornicione, sopra il terrazzo a me non risulta sì, quello che posso dire anche se sono venuto ad abitare in questa casa le mie cose si sono aggiustate che questa casa mi ha portato fortuna ma per carità, fantasmi come fantasmi è proprio il caso di dire neanche l'ombra signore, il giornale signore, il giornale ah, vengo, vabbè, scusate e Raffaele ah, sì, mi ha portato i giornali scusate, vengo su permetti quindi mi ha portato i giornali